Una sfida a colpi di cibi sani ed energetici che un tempo erano la benzina per l'organismo dei contadini che all'alba si recavano nei campi per lunghe e pesanti giornate di lavoro. Oggi le frittate, i peperoni, la pancetta, i formaggi e le patate sono il biglietto da visita per la disfida del soffritto di maiale. La manifestazione organizzata da Slow Food, giunta alla non edizione, che per il secondo anno consecutivo si è svolta nell'incantevole centro storico di Bovino, impreziosito dal castello medievale. Per tutta la mattina, ai tantissimi visitatori che hanno riempito i vicoli del suggestivo Borgo del Foggiano, sono state offerte le colazioni contadine. 16 paesi dei Monti Dauni e dell'Irpinia hanno preparato alcuni piatti tipici, tutti basati sulla semplicità e sulla genuinità dei prodotti. Nei grandi pentoloni e nelle padelle invece si preparano i soffritti di maiale. Ogni paese ha una sua variante, legata soprattutto alla macinazione della carne, più o meno sminuzzata. Era comunque una festa il soffritto e poi il maiale era fondamentale perché apportava durante tutto l'anno dei grassi e delle proteine molto importanti per la sopravvivenza delle persone. A fare da cornice alla festa enogastronomica, il pregevole centro storico di Bovino, da diversi anni riconosciuto uno dei borghi più belli d'Italia. Chi è venuto qui oggi potrà veramente assaporare i sapori di una volta. Poi viene in un borgo che non ha nulla da invidiare ad altri borghi d'Italia, tant'è vero che siamo in Lizza per essere eletto il borgo più bello d'Italia, dopo essere stato eletto il borgo più bello di Puglia. E quindi non resta altro che scoprire quali sono le nostre bellezze interne al borgo.